Buongiorno a tutti quanti, tra poco come sapete inizia l'anno ecclesiastico, il nostro anno ecclesiastico comincia più o meno dai primi di ottobre fino a giugno, per cui ci sono tanti progetti, tanti obiettivi, tante cose nuove da fare, tante scommesse da vincere e ogni anno diciamo che riusciamo a cessare gran parte di quello che sono i nostri obiettivi grazie al signor Presidente. Per un bel po' di anni, ormai questi sono 12 anni che c'è questa chiesa, la nostra sua era rimasta più o meno la stessa, forse qualcuno se ne andava ma altri andavano via, uno per volta, uno per volta. Questo sarà il primo anno ecclesiastico dove il nostro vivaio, il vivaio che abbiamo coltivato ci lascerà quasi totalmente, chi per un po' di tempo, chi per un tempo un pochino... Ora, come qualsiasi allenatore che si rispetta in qualsiasi squadra, io ho allenato per un periodo nel rugby, so che quando tu cresci un giovane allenatore, da un giovane ragazzo, lo vedi crescere, poi lo vedi che passa dalla tua squadra a quella superiore, dalla giovane, e poi su su fino alla prima squadra, fino ad essere quello, da quello che apprende a quello a cui passi la palla perché ha più fiato degli altri. Quando succede questo, nel cuore di un allenatore c'è sempre un certo sentimento contrastante. C'è l'orgoglio di aver cresciuto un ragazzo, una ragazza, di averlo equipaggiato, di averlo equipaggiata per fare il gioco, per aver insegnato le mosse che farà in futuro senza rimorio. Ma c'è anche un umano dolore nel sapere che sta andando via, è cresciuto abbastanza e non lo vedrai più, non lo vedrai più ogni domenica, non lo vedrai più a suonare la chitarra, non lo vedrai più a suonare le percussioni, non lo vedrai più al sound dance, non lo vedrai più a prendere appunti in sala, non lo vedrai più a suonare le percussioni. Il messaggio, ragazzi, che voglio darvi oggi è di questo, cosa metti in valigio. Certamente voglio darvi qualche cosa da portare via da questa chiesa, non tutto quello che vi abbiamo dato perché altrimenti è una valigia troppo grande, ma voglio che voi darvi qualche cosa di piccolo che voi possiate mettere all'interno del vostro bagaglio. Per prima cosa, cosa sono le cose importanti e le cose imprescindibili di quando viaggiate? Cosa mettete nel vostro bagaglio? Questa è una domanda, eh? Cos'è le cose importanti che dovete avere? Non avete mai viaggiato, ok? Cosa mettete? La prima cosa che mettete normalmente è? Passaporto. Come? Passaporto. Che? Passaporto. La cosa fondamentale quando entrate dentro un aereo è che abbiate questo, sì, perché ci sono altre cose importanti, ci sono cose molto importanti, tipo i soldi. Servono i soldi? Vi servono perché vi serviranno o in forma di carta o in forma di bancomat, di carta di credito. Vi servirà sicuramente il biglietto, il biglietto dell'aereo che può essere in forma cartacea, a questo punto ci stanno anche sui smartphone, sulle applicazioni. Però sapete, alla fine, anche se non avete i soldi, e anche se non avete il biglietto, perché in qualche maniera ve lo fanno stampare all'aeroponto, comunque potete partire. La cosa, come giustamente avete detto, senza di cui potete partire è il vostro bagnettino. Allo stesso, qui dentro c'è scritto tutto quanto, qui dentro c'è scritto chi siete quando siete nati, da dove venite, a quale nazionalità appartenete. La cosa di cui non potete fare a meno è proprio il passaporto. Ora qua dentro questo passaporto c'è scritto chi siete per lo Stato italiano, italico, romano. Ma questo è contenuto, in questo è contenuto la vostra identità fisica. Non c'è contenuta la vostra identità morale, la vera identità. nei posti dove andrete, la prima cosa che vi chiediamo, no? Sarà questo qua. Ma qua dentro non c'è scritto chi voi realmente siete. Qui c'è di nome, di nome, c'è di nazi. Ma come faranno a capire che voi siete dei figli, che voi siete delle figlie di Dio? Da Lui amate? Sul tuo passaporto non c'è scritto. Dove sta scritto il tuo vero nome, la tua vera cittadinanza? Deuteronomio dice questo. Avanti. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze. Le parole di questo comandamento che oggi vi do restano nel tuo cuore. Le ripeterai a te figli, le dirai quando ti colpi e quando ti alzi. Le leggerai con un segno sulla mano, le porterai in un pendaglio davanti al tuo cuore. Le scriverai sui figli della tua casa e all'ingresso delle città. Quello che abbiamo fatto noi, quello che ha fatto Ivo, quello che hanno fatto altri, quello che hanno fatto le persone nella vostra famiglia, i vostri genitori, sia come genitori fisici che come genitori spirituali, è stato proprio questo, cercare di scrivere le leggi di Dio nel vostro cuore. È questo che abbiamo, che ci siamo affaticati, di fare per questi lunghi anni in cui vi abbiamo avuto a fianco. Ma come vedranno gli altri quello che noi abbiamo scritto a nostra famiglia? Come faranno a vederlo quando non farete più parte fisicamente di questa chiesa perché non sapranno più che entrate dentro la chiesa della terra. C'è una lettera, una lettera di Pietro, che penso possa interessare a voi. Prima Pietro 2, dal pezzetto 11 al pezzetto 11. Già la prossima. Che dice così. Fratelli miei, come forestieri sulla terra, vi prego di non avere nulla a che fare come desideri bavarci, che sono sempre in alto, con un'altra. Comportatevi bene fra i non credenti, così, mentre parlano malessaggi, come se aveste fatto del male, vedranno quanto bene si fate, e dovranno lodare Dio nel giorno in cui si esiste alla scena. Per l'amore del Signore siete sottomessi ad ogni autostia umana, sia che si tratti di capi di strato, che di altre persone incaricate dall'otto di cui riportevole di lodare l'amore. Perché penso che possa esservi utile questo ragazzo? Perché in questa lettera ci sono contenute delle indicazioni che sono fondamentali per ciascuno che è lontano dalla propria casa natale. Questa è una lettera che era scritta da Pietro a delle chiese che erano in Turchia e si trovavano in una certa maniera in prima fila tra le chiese occidentali e erano sotto pressione, erano pressate, erano in una situazione di stress molto alto. Erano deboli in un certo senso. Perché? Perché non erano ebrei. Non avevano tutta questa struttura biblica. Erano dei neo-preventi. Per cui quando le persone si presentavano loro le dicevano ah ma perché tu pensi questo di Gesù? Ah ma dici queste altre cose? Allora si trovavano in una certa soggezione perché dicevano queste cose non le so. Erano posti sotto stress. Voi non siete così neo-preventi come loro perché voi vedete da molto tempo. Però quando sarete lontano da qui quando avrete le vostre vite probabilmente verrete posti di fronte alle stesse domande che facevano le persone alle chiese in Turchia. E dovrete fronteggiare un mondo che è fatto non di credenti ma di non credenti. E questa volta lo dovrete fare da solo. Da solito. Non ci saranno papà e mamma. Non ci sarà il pastore. Non ci sarà il piccolo gruppo. Non ci sarà il gruppo giovane. Dovrete fare da soli. Allora qual è il suggerimento che dà Pietro? Pietro da un suggerimento molto semplice. Piuttosto che cercare di controbattere cercando delle frasi, delle frasette sulla Bibbia o cercare di ricordare quello che in chiesa avete ascoltato, molto più semplicemente fate vedere quello che realmente siete. Pietro sorta la chiesa di Turchia, la chiesa di Turchia, a testimoniare con quello che arrivano a disposizione, che era la loro vita, la loro vita. Se nella vostra politica avete messo la vostra identità, l'essere figli e figli di Turchia, salvati per grazia, piuttosto che dover intavolare discussioni teologiche, cercare di spiegare a persone che non hanno mai letto la Bibbia del perché ci sono scritte delle cose. Potrete molto più semplicemente dimostrarla attraverso quello che farete e direte tra le persone che incontrate. E con questo non siete da soli, perché Pietro ci dà abbastanza indicazioni. La prima cosa. Siate forestieri alla terra. Ora, nel posto dove andrete, in vostro accento, i vostri cognomi, tradiranno le vostre origini. Matteo che andrà in Inghilterra e voglia spiegherà il mio pazzo nostro è britannico, ma quando si chiami Matteo delle monache, e tutti diranno, non se ne fai spiegherà. Daniele che andrà in Canada, hai voglia a dire che sta in Canada lì, ma chiaramente si chiamerà Daniele un bustine, così per Alessandro Castella. Damaris sarà fortunata, perché si chiama già Damaris Giacassana, per cui in Romania sarà mamma di casa. Però col tempo il vostro accetto migliorerà. Si sentirà sempre di meno che siete stranieri. I vostri nomi saranno deformati secondo la maniera più consona alla fronte in quel posto. Matteo, probabilmente di vera una parte della nazione, forse col tempo avrete, se non ce l'avete già, la cittadinanza di quella nazione. Ma ricordatevi una cosa ragazzi e ragazze, voi sarete sempre forestieri. che cosa significa? Che voi non appartenete a quel popolo. Perché? Che voi, o sappiamo noi, non siete né italiani, né rumeni, né britannici, né napoletani. Voi appartenete a Cristo. Voi siete il popolo di Cristo. Che cosa è che distinguo un forestiero da una persona nazionale? Una cosa molto semplice. Che i forestieri continuano a fare le stesse cose che facevano quando era una cazzo. Casa nostra è piena di buste di tè inizio. Mi ricordo, Amy, mi ricordate? Festeggiavo il Thanksgiving, il giorno dei ringraziamenti. Non è una festa che si festeggia in Italia. Non so, probabilmente voi rumeni avete delle festività e delle tradizioni che continuano a fare qua in Italia. I napoletani si vanno a casa e portano il babà a rumbo perché non lo trovano qua. I locali mangiano e festeggiano cose differenti. I forestieri continuano a mangiare e a festeggiare le stesse cose che festeggiavano quando erano nella propria pratica. Perché altri vedano la vostra vera identità. Voi dovete fare la stessa cosa. Vedete la prossima. Vi prego di non avere nulla a che fare con i desideri malvagi che sono sempre nella vostra vera identità. Che cosa significa adesso? E quello che avete preso qua dovrete continuare a praticarlo da dove è. Dovrete continuare a pregare. Dovrete continuare ad avere misericordia. Dovrete continuare ad amare. E ricordatevi il motto della nostra chiesa. Amare non è un sentimento. Ma amare è un sentimento. Dovrete continuare ad amare facendo. E dovete continuare, ragazzi e ragazze, scattatevi bene, ad avere una comunità con cui adorare. Dovrete trovare una chiesa da tornare. Perché farete parte di questa chiesa siano coinvolti con gli altri. È vero. Starete forestieri. Ma questo non significa che dovete essere nelle isole. Non è che dovete essere isolati. Continuare a mangiare quello che si mangiava a casa. Festeggiare quello che si festeggiava a casa. Ed agire come agivate a casa. non dovrete rimanere in isole. L'abbiamo detto più e più volte. Il motivo che noi siamo credenti è perché Cristo vuole che ci siamo coinvolti nella società. Questo non lo dico io, ma lo dice Papa, ma lo dice Pietro. Comportatevi bene fra i non credenti. L'abbiamo detto una marea di uomini. Per testimoniare Cristo devi vivere nella società, non a fianco della società. Paolo dice bene ai 13. Prima Corinthians 5, da 9 al 11. Dice così. Vi ho già scritto nella mia lettera di non mischiare con quelli che commettono immoralità. Ma non parlavo degli immorali o degli avari o degli imbroglioni e degli dori che sono nel mondo. Infatti non potete vivere in questo mondo senza venire a contatto con gente del genere. Ma lo dice appena. È chiaro che voi dovete astenervi da queste cose ma non è che dovete astenervi una religione da serra chiusa dentro una chiesa ha veramente troppo valore sia per voi che per gli altri. Essere cristiani solamente quando entrate in chiesa non cambia la vostra vita e non la cambia nemmeno la vita di quelli a cui vi incontrava. Terzo suggerimento di vita. Non scoraggiatevi da agire bene. Ora nelle vostre famiglie, nella vostra chiesa, se aggivate bene, se aggivate secondo quello che vi era stato insegnato, erano lodi e sorvisi e pacca sull'antrazione. Non aspettatevi niente del cesta al di fuori della vostra famiglia spirituale. Non lo dico io, lo dice Pietro. Guardate la prossima. Così mentre parlano male di voi, con queste patte di male, vedranno quanto in mente. Ora, parleranno male di voi? Pio non è. Attenzione Pietro non dice se parleranno male di voi. Loro dice mentre parleranno male di voi, per cui è sicuro che parleranno male. E quando parlano male? Quando agite male? No, quando agite bene. Perché state agendo secondo quello che vi è stato insegnato dai vostri genitori spirituali, il vostro papà e la vostra mamma, la vostra chiesa, la Bibbia. Voi agirete secondo quello che sta scritto sulla Bibbia e quelli di voi. Quindi parleranno male di voi dicendo che state facendo male. Ma guardatevi il verbico al suo provvedimento qua. Parlano, vedranno, parlano. Parola sta dicendo una cosa precisa. Attenzione. Le parole non si vedono. Le azioni si. Le azioni si. Voi agite bene e lasciate che gli altri parlino male. Perché alla fine nessuno vedrà le loro parole, ma tutti vedranno le vostre azioni. Le vostre azioni. E alla fine le parole, le azioni parleranno più forte delle vostre azioni, delle vostre parole, delle loro parole. Quello che fate parlerà per quello che siete. C'è un detto britanico che dice, che dice, come si dice, le azioni parlano più forte delle parole. Le azioni parlano più forte delle vostre. Per cui non scoraggiatevi da praticare le cose buone che avete appreso. La vostra vera identità è di agire come credente secondo quello che vuole Dio, piuttosto che di parlare di Dio. Se vi viene la voglia di parlare di Dio invece di agire come Dio vuole, non parlate di Dio ma agite come Dio vuole. Ricordatevi che l'amore non è un sentimento, l'amore è un'azione. Ora, con questo non sto dicendo che voi non dovete parlare di Dio. non semplicemente. Ragazzi e ragazze. A tutt'altro, Gesù stesso dice così, in Matteo 10, versetto 27, dice, ciò che ora vi dico di nascosto, proclamatela rettamente, ciò che vi sussurra il retto, diridatelo sui letti. Voi dovrete continuare a testimoniare Cristo anche con la vostra memoria. Non significa che voi dovrete nascondere la vostra fede, ma significa che le vostre parole dovranno essere precedute dalle vostre azioni da sedenti. Dovrete fare sì che le vostre parole siano la conferma di quello che voi avete già fatto. Questo che cosa significa? Significa abbracciare prima l'amico di chi ti amo. Significa non aderarsi prima e perdonare prima. Significa abbracciare il vicino o il compagno di distanza con cui starete nelle difficoltà prima e parlare del Signore. Quarto suggerimento da parte di Pietro. Siete servi utili per la gloria. Oltre al versetto io sono la vera vita e voi siete granci che è il motto della nostra chiesa. Abbiamo altre due. E uno è amare, non è un sentimento che è una nazione. E l'altro, se nessuno si ricorda l'altro tormentone, un servo che non serve, non serve. Un servo che non serve, non serve. Tutto ciò che farete, tutto ciò che farete, quando dico tutto, intendo tutto, tutto. Non soltanto tutto quello che farete in chiesa nella vostra vita spirituale, ma tutto quello che farete nella vostra vita, anche e soprattutto quello che non farete nella vostra vita spirituale, ma nella vostra vita di tutti i giorni parlerà alle persone strutture. Infatti Pietro dice così vedranno quanto bene fate e dovranno dare Dio nel giorno in cui si avvicinerà. allora fai un giorno in cui si avvicinerà. Attenzione, qui Pietro dice una cosa ben precisa. Pietro non dice se ci sarà un giorno a cui Dio si avvicinerà a loro. Per cui Pietro sta dicendo Dio si avvicinerà per forza a un non credente. Ci sarà un giorno in cui Dio sarà vicino a un non credente che magari è amico vostro. Ci sarà vicino. Non è un se, ma è quando si avvicinerà. E quando si avvicinerà Dio a un non credente che conosce voi, le vostre azioni faranno sì che il non credente metta in discussione il suo non credere. Perché avrà visto come siete voi e come agite voi da credente. E allora lo dirà Dio perché lo dirà saprà che le vostre azioni non sono fatte a caso, ma sono fatte perché voi siete figli di Dio, ci siete figli di Dio. E alla fine voi avete gloria? Già, ho portato questa persona a Cristo tramite le mie azioni. Assolutamente no. No. Assolutamente no. Dovranno lodare Dio. La gloria sarà di Dio, non sarà vostra. Voi avete fatto soltanto quello che come servi siete chiamati a fare. Avrete servito. Perché non serve o che non serve. Non serve. In te ultimo suggerimento. Ristettate le leggi. Sembra quasi superfluo, dico, no? Sembra ovvio. Dice, stai in un posto di rispettare le leggi. Ma se Pietro lo dice, eh, significa che Pietro ci conosce. Ci piace provare le scorciatoie. Ci piace obbedire in una maniera personalizzata. In Italia c'è il detto, fatto dalla legge, trovato l'inganno. Pietro invece dice così. Per amore del Signore, per amore del Signore, sia da sui comessi ad ogni autorità umana, sia che si tratti di capi di Stato che di altre persone incaricate da loro di quelli portevoli e di lodare quelli che ci sono. Cosa dice Pietro qua? Dice, no, voi non dovete obbedire alla legge perché c'è la legge. Ma voi dovete obbedire alla legge per amore del Signore. Per cui, quando voi obbedite alle leggi, dei posti dove state? State dimostrando amore per il Signore. Se leggete nella rimanente parte del capitolo, vedrete che Pietro dice, guardate che Gesù ha rispettato la legge, ha rispettato le leggi, non la legge di Dio, ma le leggi del posto le ha rispettate così tanto che una legge sbagliata lo ha posto sull'approce, ma lui ha rispettato quella legge. E non si è affidato ai giudici del mondo, ma si è affidato a un giudice supremo, che è un giudice supremo. Anche questo fa parte del pacchetto che definisce la vostra identità in questo. Anche questo fa parte del pacchetto che testimonia chi siete, rispettate le leggi. Se avete l'età per andare a bere, superalcolici ci andate, se gli altri che mi invitano e hanno un'età inferiore, gli dici guarda che tu non dovresti entrare, io non ti accompagno. Se gli altri ti dicono, guarda mi compri il whisky perché io ho meno anni della legge, mi dispiace non posso. Significa rispettare i limiti di velocità, significa non bere quando abitati, significa rispettare le leggi a parte del pacchetto che è evidente. Come tenete sarai tenuto a rispettare le leggi del paese dove sarai andato? E per questo ho composto una cosa molto semplice, conoscere le leggi. Per cui nei posti dove andate dovete anche chiedere, ma come si fa qua? Qual è la legge per questa cosa? Per cui chiederebbe alle persone giuste, perché a molte persone si dicono, no, 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 si fa così, in formale di pertenza. Mi dà l'ultima slide. In conclusione, non so cosa porterai la nuova legge, se saranno pesanti o leggeri. Alcuni porteranno la nuova legge a un moto più pesante, altri un po' più leggeri. Ma come il tuo pastore ti dicono, metti per prima cosa la tua vera identità in Cristo. Chi sei realmente? Sì forestiero. Sì forestiera questa terra. Continua a praticare le buone cose che ti sono state insegnate. Continua a pregare. Continua ad essere misericordioso, ad essere misericordiosa. Continua ad amare, ricordandoti che l'amore è un'azione e non un sentimento. Continua ad andare in una chiesa, in una chiesa, in una chiesa, in una chiesa. Sì coinvolto, sì coinvolta con la vita degli altri, perché così, soltanto così, potrai testimoniare Cristo agli altri. Non ti scoraggiare di agire bene, di fare bene, perché le parole rimangono parole, ma le azioni parlano più forti delle parole. Sì un servo, sì una serva oltre per l'amore su Dio. Ricordando che tutto ciò che fai nella tua vita, tutto, può portare altro ad accettare Cristo. E infine, rispetta le leggi, perché Gesù le ha rispettate le leggi. Anche se erano leggi umane, anche se erano leggi spagliane, ma lui le ha rispettate. Pietro sintetizza in una sola frase tutto quello, tutta questa predicazione. rispettate tutti, amati fratelli, temete Dio e onorate il tuo passaporto, non questo qua, ma quello vero, quello vero. Senza di cui non puoi partire da qua, non ti lascio partire se tu non hai dentro il tuo cuore il passaporto giusto. E' chi veramente sei. E la predicazione che ho fatto oggi non vale soltanto per voi che partite. Ma vale per tutti noi che rimaniamo. Noi non dobbiamo andare da nessuna parte, stiamo qua, ma il passaporto della nostra identità è lo stesso di quella del passaporto. E' l'ultima. Efesili 5,1 Questo è il passaporto che tutti dobbiamo avere. Siate dunque imitatori di Dio come figli amati, come figli amati. E camminate nell'amore come anche Cristo ci ha amati. E ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio. Quale è il rumore di Dio? Dio dove è il suo amare. Dio dove è il suo amare. Grazie per la gioia che ci hai dato di istruire gli amati. Grazie per la gioia con cui hanno riempito questi luoghi. Tutti i posti dove siamo stati con i loro amici. Grazie per la loro gioia, la loro intraprendenza, la loro gioventù. Grazie per tutto quello che hanno fatto per questa Chiesa e per i loro amici. Signore, noi te li vogliamo affidare, vogliamo darteli, vogliamo affidarli a te. E se voi vi avete ascoltato in questo momento, se ne stati colpiti da qualche cosa che è stato detto oggi, pregate queste cose assieme a me, nel vostro cuore. Signore, io voglio avere la tua identità, voglio partire da qua, portandone a mia valigia spirituale, sia che parta che resta. La mia vera identità, la vera identità di Cristo e di Cristo. Voglio continuare a praticare le buone cose che mi sono state insegnate e che sono scritte sulla tua parola. La preghiera, la misericordia, l'amore, la comunione e la fraterna monaca. L'impegno ad essere coinvolto nella società, perché così potrò testimoniare di te. E ti prometto di non scoraggiarmi, di fare il bene, ma di continuare ad agire così come mi è stato insegnato, nella tua parola. E voglio essere un servo, voglio essere una serva utile, ricordando che le mie azioni possono testimoniare di te e portare anche a te. E ti prometto che rispetterò le leggi, anche se non ricaviscono, anche se non hanno una logica. Ma io voglio sottomettermi alle autorità locali. Voglio rispettare tutti, voglio amare i miei fratelli, voglio temerti, Signore, e voglio onorare chi ti governa per il tuo amore. Tutto questo te lo prego nel tuo santo nome, Signore Gesù. Grazie. Grazie.